La Regione Puglia ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto per il rimboschimento e l'aumento di livello di naturalità di due aree afferenti alla riserva naturale dello Stato ed area marina protetta di Torre Guaceto. Si tratta di un pezzo della zona speciale di conservazione Torre Guaceto-Macchia-San Giovanni, localizzato nei pressi di Punta Penna Grossa e dell'area che circonda l'osservatorio ecologico dell'area protetta nel cuore della riserva. L'ambiente oggetto del primo intervento è quello balzato agli onori della cronaca nella primavera 2018 a causa di un atto doloso. La zona in questione era stata rimboscata e rinaturalizzata con interventi specifici condotti dal Consorzio. Le attività svolte sul campo avevano permesso non solo che la macchia mediterranea prendesse forma e colonizzasse l'area, ma anche di conseguenza che le specie animali che popolano questo tipo di habitat si stabilissero nella zona. Poi lo shock nell'aprile 2018. Con l'obiettivo di danneggiare l'area qualcuno ha distrutto l'intera zona, arando al suolo tutta la vita che c'era attorno. Il Consorzio ha però reagito all'atto doloso continuando il percorso di tutela e lanciando la campagna di piantumazione Io sto con Torre Guaceto. Contestualmente si è messo al lavoro ed ha presentato alla Regione il progetto per un ulteriore intervento di rinaturalizzazione dell'area. Oggi il progetto è pronto per essere realizzato grazie ad un finanziamento di 400 mila euro. La buona notizia della missione a finanziamento del progetto ci conferma che le competenze che ogni giorno mettiamo al servizio della tutela di Torre Guaceto sono ben spese, ha commentato il Presidente del Consorzio, Corrado Tarantino. Continuiamo così e abbiamo tanti progetti che attendono solo che si ultimino i dovuti passaggi burocratici per essere realizzati. Torre Guaceto ha concluso Tarantino, sarà sempre più bella ed accogliente tanto per gli animali e gli habitat quanto per i fruitori.